Tutti in fuoco. Da quanto tempo sei qui? Direi circa tre anni, quasi tre anni. Senti, ti volevo ringraziare. Volevo ringraziarti per... Se non fosse per te, adesso sarei ancora in quel rover fracassato, mi hai salvato la vita. Guarda, questa cosa è strana forte. Io mi sento solo, capisci? E vorrei darti la mano. Mi vuoi dare la mano? Magari tu puoi. Chi hai da guardare? Sei identico a me, incredibile. Perché io identico a te e perché non tu identico a me?